Sul contrasto al consumo del suolo si sta concentrando l'attività della Commissione di Palazzo Madama. Nella scorsa legislatura l'approvazione della legge era sfumata all'ultimo. Ad oggi ci sono dieci proposte che attendono di essere esaminate. Conto di poter terminare le audizioni spero per fine aprile o poco più. Il passo successivo sarà quello di lavorare, spero con la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari, per scegliere un testo unificato. E il clima sarà il centro anche del prossimo Consiglio europeo, in cui i leader dell'Unione discuteranno di una strategia a lungo termine da adottare, in linea con gli accordi di Parigi, entro il 2020.